se dove c'era Picocio l'altra volta ne vedo un altro, ti fermi stavolta cazzo no no Giorgio ti giro la chiave, tiro il freno a mano, non puoi farmi perdere Pikachu quando lo vediamo tiro il freno a mano lo ammassiamo col culo no io lo prendo col cellulare, ti stacco la batteria e butto via la chiave non puoi farmi perdere Pikachu così cazzo per una volta che lo vedo, anche se sono in prova speciale, cazzo ti devi fermare oh e che cazzo, beep è meglio non dirlo io voglio Pikachu eh, sappilo cazzo, ti stacco lo stacca batterie se lo vedo con lo stacca batterie si spegne la macchina no? si a 50 metri dalla prima curva c'è una vettura ferma sulla destra hai visto che si è fermata a prendere Pikachu che te l'ho detto, cazzo non sarà più mancazzo a passare il tempo allora c'è il Pikachu lì, o ti fermi o ti stacco lo stacca batterie va bene te l'ho detto già dal primo giro prima curva qua destra 3, destra 3 Pikachu destra 3 ecco quella lì destra 3 Pikachu al posto dello sconnesso ah ok ok vabbè ma destra 3 Pikachu wow che figata è Pikachu 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 ti meloteva ti meloteva, a quante ore? no ti mette la mano, ti mette la manina 5, 4, 3, 2, 1 10 5, 4 3, 2, 1 vai destra 3 Pikachu 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 80 sconnesso destra 6 l'ho preso 150 da lungo dosso in sinistra 5 30 al palo c'è il tornante destro sono contento ho preso Pikachu e si gioca con quella roba lì andiamo a rovesciarci in un campo 150 tornante sinistro eh si 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 gioca 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 50 destra 6 30 30 sinistra 3 sinistra 3 ti ho detto sinistra 3 30 dosso sinistra 5 lungo 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 vai 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 dosso in sinistra 5 vai vai poi alla chiesetta c'è un destra 3 vai 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 chiesetta destra 3 150 sinistra 4 là in fondo 30 destra 5 lungo vai 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 c'è un dosetto vai 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 alla casa rosa c'è un sinistra 3 qui 3 100 dosetto altri 100 su ponticello destra 4 50 dopo dosetto 200 chicane sinistra 5 sinistra 4 lungas 30 attenzione destra 5 subito sinistra 3 destra 5 sinistra 3 in destra 3 c'è un altro sinistra 3 50 sinistra 4 alla casa attenzione tutto attaccato destra 4 per sinistra 4 stai centrale per destra 4 in attenzione sinistra 3 gira 3 gira 150 da lungo sinistra 3 50 al ponticello destra 3 diventa 4 lungo lungo vai vai sinistra 3 lunga 3 lunga 150 da lungo vai sinistra 3 gira 3 gira per un'altra sinistra 3 per un'altra sinistra 3 in destra 4 diventa 3 sporca subito tornante destro accenno sinistro accenno 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 destra per destra in attenzione tornante sinistro quello di merda con la staccionata che stringe vai 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 destra 2 là in fondo sinistra 5 lungo destra 2 qui poi c'è un sinistra 5 lungo chiude lungo che chiude un pochettino destra 4 chiude 30 sinistra 5 100 da lungo vai c'è tutto quello che vuoi c'è l'olio qui destra 3 ma ormai siamo passati sinistra 3 destra 3 sinistra 4 tieni in versione col giochino 100 accenno sinistro sinistra 3 sinistra 3 destra 3 su ponte sinistra 3 sinistra 3 100 tornante sinistro tornante sinistro lungo entra largo accenno destro lungo 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 a 4, 100 dal lungo al giallo, 100 cavatappi, destra a 3, 30, Ponticello, sinistra a 3, 2 tempi, 30, sinistra a 4, destra a 4, destra a 4 di nuovo, 30, un altro, destra a 4, diventa un tornante destro, destra a 4, diventa tornante destro, eccolo qui, sinistra a 4, diventa 3, diventa 2, 3, 2, 100, accenno destro, tornante sinistro con palla, c'è la toma, 50 alla casa, occhio piano, sconnesso, destra a 3, per sinistra a 2, sinistra a 2, intornante destro, stretto, 30, sinistra a 4, alla chiesa, sinistra a 4 di nuovo, 30, destra a 2, lì, destra a 3, per sinistra a 4, 100 di allungo, accenno destro, perdonante sinistro, chiuda la balla, c'è una toma che ti aspetta, 200, vai dopo, vai, 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 al rosso, sinistra a 3, vai, al rosso, sinistra a 3, tornante destro, sconnesso, chiude, chiude, 200, vai, al giallo, c'hai ancora 50, accenno destro, per sinistra a 4, per sinistra a 3, spettacolo, sinistra a 4, per sinistra a 3, spettacolo, stai al centro, 100, scende, sinistra a 4, chiude, chiude, dosso, in destra a 2, lì, in destra a 2, accenno destro, 20, tornante sinistro, tornante sinistro, lì, 100, dosetto, 50, ancora, accenno sinistro, lungo, vai, 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 al destra a 2, lì, destra a 2, chiude, 100, compressore, dosso, stai a sinistra, 100, accenno destro, accenno sinistro, poi sei sul bivio, c'è l'inversione sinistra col giochino, l'inversione sinistra col giochino, fammi giocare, dai, sinistra a 2, 30, destra a 3, lì, al muretto gira, c'è la balla, 50, sinistra a 3, la griglia, griglia, 50 alla casa, sinistra a 3, chiude, chiude, vai, chiude, chiude, 150, accenno sinistro, un altro 100, alla casa, accenno destro, attenzione sinistra a 3, 3, chiude, 30, accenno destro, 100, vai, agli alberi, tornante sinistro, chiude con balla, c'hai la balla, destra a 4, diventa tornante destro, tornante destro con balla, destra a 2, diventa sinistra a 2, chiude, 150, vai, accenno sinistro, e al rosso è finito, Pikachu, 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 e stavolta abbiamo tolto qualcosa, scommettiamo, scommettiamo che abbiamo tolto qualcosa, mi sono divertito sto pezzo, scommettiamo che abbiamo tolto qualcosa, no, 9,12, no, ma hanno alzato tutti, no, c'è qualcosa che non va,